buongiorno amici benvenuti e ben ritrovati sul mio video oggi sono quello subaru sono andato a fare benzina infatti come vedete la lancetta della benzina sta salendo io intanto devo azzerare il contachilometri bene tanto la benzina sta salendo che pian piano sale questa roba qua e in poche parole sono ho riempito il serbatoio 47 litri 97 franchi oggi la benzina qui in svizzera è 2 franchi al litro eh sì 97 pieno di questa qua mi conviene andare in italia che costa meno diciamo ebbene ora vado a vedere un attimino la pressione delle gomme e poi vediamo vediamo anche il gasolio quanto costerà in un altro video con la mia gippona e che dire ragazzi 97 franchi per 47 litri di benzina è tanto è tantissimo e e niente speriamo si abbassi purtroppo questa guerra ha alzato i prezzi della benzina e basta ho visto qua per quanto riguarda il resto non si è alzato nient'altro qui in svizzera poi in italia o comunque in germania o negli altri paesi non non saprei e e niente qui non ci sono tassi in più non ci sono altre cose in più quindi si tratta solamente tutta di speculazione e basta non non c'è nient'altro che può dare fastidio diciamo ai prezzi ebbene io tra l'altro ho una subaru che mi beve come una dannata ho un'altra jeep che sia un po' più economica ma c'è sempre un 3000 v6 quindi andiamo bene e cercherò di non bruciare tutta la benzina subito al volo cosa difficile visto che tra un po' questa qua andrà a fare la rimappa andrà a fare la rimappa e sarà molto più performante spero di arrivare su su una cavalleria imponente diciamo ebbene ora contro ebbene ora contro ora contro